Il nostro primo piano, allora ci ha raggiunto in studio Giovanni Galli, lo siete abituati a vederlo il lunedì, ma la sera con Mario Tenerani per parlare di Fiorentina, per parlare di calcio. Lo ritroviamo perché Giovanni ormai da tanto tempo, dal 2009, ha un'attività anche politica, consigliere regionale per la Lega, corre anche per Palazzo Vecchio alle elezioni amministrative di sabato e domenica prossima. Giovanni, riparto dalla domanda che facevamo poco fa al capitano ultimo e che all'inizio della trasmissione ho fatto anche al direttore del lancio della Toscana. Sono elezioni queste, che si parli di europee, che si parli di amministrative, in cui c'è un'esplosione delle liste civiche. Tutti i candidati sindaci, di centrodestra e centrodestra, se guardiamo Firenze, hanno la propria lista, ma anche in realtà più piccole. Tu sei stato forse uno dei primi a presentarti come civico a Firenze. Venivi da una realtà completamente diversa, il mondo del calcio, insomma non c'è bisogno di presentarti da questo punto di vista. Sei stato un antesignano di quello che è successo dopo? Non lo so, se si va a rivedere il tempo sicuramente sì, perché era il 2009. Però probabilmente non era stato letto a suo tempo questo risultato dalla politica. Cioè, che cosa voglio dire? Che probabilmente a Firenze quello che è successo a me era un premio, un riconoscimento alla persona, non al partito di rappresentanza. E questo negli anni successivi, tanti hanno portato avanti le loro liste civiche, proprio perché magari ci sono quegli indecisi che non si identificano in un partito, non si identificano in una campagna elettorale, ma hanno stima della persona. Ecco, e devo dirti che quel 2009 per me, a di là poi dopo di come è andata a finire, per me fu un grande riconoscimento da parte di Firenze, del quale io vado estremamente orgoglioso. Sei stato un candidato sindaco e poi rimasto per cinque anni in Consiglio Comunale, poi sei transitato in Consiglio Regionale. In quei cinque anni in Consiglio sono stati gli anni della guida di Matteo Renzi come sindaco e quando si parla di Firenze inevitabilmente si finisce sempre a parlare di grandi opere. Lo abbiamo fatto martedì scorso, ad esempio, quando ci siamo confrontati con tutti e dieci i candidati al sindaco. Le grandi opere di cui si parla oggi, nel 2024, sono sempre quelle. Che è successo a questa città? È una città destinata ad essere congelata? No, è una città che è troppo condizionata anche dalla città metropolitana per le grandi opere, una su tutte e l'aeroporto. Ma di fatti io rispondo subito alla tua domanda, vuol dire che in questi 15 anni la politica, chi ha guidato Firenze, non ha dato le risposte adeguate, le risposte che tutti aspettavano. Perché voglio dire, non è stato soltanto nel 2009, è stato anche nel 2014, è stato anche nell'ultima, nel 2019, quando sono state fatte le elezioni amministrative, i temi erano sempre gli stessi e il risultato non è mai stato portato a casa. Allora mi domando se fosse in questo momento il caso di provare a cambiare qualcosa, o perlomeno di dare al centro-destra l'opportunità per cinque anni di amministrare Firenze. Dopodiché, se non saremo in grado di dare delle risposte, fra cinque anni ci rimanderanno a casa. Però dateci l'opportunità di poterci misurare con quelle che sono le proposte, con quelli che sono i temi, che da vent'anni, lo diciamo, sono sempre gli stessi. Io credo che il centro-sinistra abbia paura soltanto di una cosa, perché quando io guardo la Toscana e vado a vedere Massa, vado a vedere Lucca, vado a vedere Pisa, Pistoia, Grosseto, Siena, dove il centro-destra ha avuto l'opportunità di guidare per cinque anni, sono sempre stati riconfermati. Questo vuol dire che le risposte al territorio sono state date. Allora, parlando di queste grandi opere alle quali facevamo riferimento con Giovanni Galli, è inevitabile partire dallo stadio, insomma, che è il grosso punto interrogativo. Giovanni, tu hai giocato al Comunale, allora si chiamava ancora così, prima del restyling degli anni 90, prima del restyling dei mondiali. Forse è stato quello il vero grande errore per il Franchi, perché insomma il Franchi che è nato da quel restyling è un qualcosa che forse già allora non era più al passo coi tempi. Sì, perché non si è avuto una visione a lunga cittata. Qual è il problema dello stadio? Il problema dello stadio è la città, dove si trova, dove è ubicato. Al di là del valore patrimoniale, del valore, come è stato definito, bene culturale ad alta attrazione turistica, il problema è poi dopo dove si trova la viabilità, la sicurezza di quello stadio. Al di là, ripeto, del bene culturale, i problemi successivi rimarranno sempre gli stessi. Ci sarà il problema dei parcheggi, è stato ventilato il fatto di dover trovare 3.000 posti sul sedime, quello della ferrovia. Però poi dopo, se si porta avanti il progetto della tramvia, così come è stato presentato, Viale dei Mille sarà chiuso perché in mezzo ci passa la tramvia. Viale Duse e Via del Gignoro, che è un altro accesso dal sottopasso appena si esce dalla Firenze Sud, anche quello sarà occupato dalla tramvia. L'unica strada, l'unica, è Piazza Alberti e il cavalcavia di Piazza Alberti. Quella sarà l'unica strada accessibile alle macchine. Si dice, no, ma noi non vogliamo portare più le macchine, dobbiamo arrivare con i mezzi pubblici. E la tramvia non è una risposta. Non è una risposta, perché se è vero che la partita inizia alle 4, e allora ognuno di noi decide liberamente di andare allo stadio, chi è a mezzogiorno, chi è all'una, chi è all'una e mezzo, chi è alle due, perché alle 4 si sa che inizia la partita. E il suo tempo uno lo distribuisce come vuole. Ma quando a un quarto alle 6 l'arbitro fischia la fine della partita, tutti e 30 mila, diciamo 30 mila, vanno via tutti insieme. Allora, diciamo che 15 mila prendono la tramvia. Ecco, per portare a casa 15 mila persone, contemporaneamente, ci vogliono più di 4 ore. Allora, che risposta stiamo dando alla città? Che risposta, cioè non c'è neanche un motivo per il quale la tramvia debba arrivare fino sotto lo stadio, per questo motivo. L'idea che si sta portando avanti, appunto, di restare Ingrid Franchi, al di là del tema dei trasporti che citavi in questo momento, si è andati verso la conservazione, o almeno secondo l'idea appunto del sindaco Nardella, quella di ristrutturare quell'impianto, facendo, diciamo, meglio possibile, perché considerando il bene culturale che tu dicevi, la tua idea quale sarebbe stata? La mia idea sarebbe stata quella di fare un restauro conservativo importante sull'impianto e dopo dare l'opportunità al privato di costruire lo stadio, e logicamente è la proprietà della Fiorentina, di costruire uno stadio in un'area da recuperare, in un'area abbandonata, in un'area dove potremmo fare un intervento veramente di recupero dell'area stessa. Nello EPU uno dice, eh sì, ma poi dopo lo stadio Artemio Franchi fa la fine del Flaminio. No, perché ci sono amministratori e imprenditori che potrebbero dare delle risposte. Io avevo ventilato così l'idea, ad esempio, di portare dentro lo stadio comunale tutte le sedi delle federazioni sportive collegate al CONI, perché tu sai che a Firenze ci sono tutte le federazioni, canoa, tennis, tutte quelle che, vabbè, e sono tutte dislocate in varie zone della città e tutte pagano un affitto. Quell'affitto potresti recuperarlo, portarlo all'interno dello stadio e la manutenzione ordinaria dello stadio potresti farla già con questi affitti. Dopo lo devi mettere a portarci anche delle attività, portarci anche delle manifestazioni e mi domando, ma se l'arena di Verona vive 365 giorni l'anno, è possibile che lo stadio di Firenze non si possa fare altrettanto? Mi sembra che il clima sia un pochino migliore a Firenze che non quello di Verona e allora portiamoci attività, portiamoci tutto quello che possa rendere vivo un quartiere senza andare tutte le volte a intasarlo, perché lo abbiamo visto benissimo, le difficoltà che ci sono, ripeto, del traffico, andare lì con le macchine che vengono messe sui passi carrai, le persone che non si possono muovere, addirittura le strutture tutte intorno che bloccano lo stadio. Insomma, secondo me, ecco, lo stadio deve rimanere quello, deve essere rimesso, deve essere, ripeto, fare un restauro conservativo, ma deve essere il Franchi che è sempre stato. Ma siamo in tempo per fare marcia indietro, perché, insomma, ci sono... è una delle poche cose dove le ruspe sono in azione. No, allora, le ruspe... o almeno si è visto buttare giù il capellone, insomma, almeno qualcosa si è mosso. Anche di quello bisognerebbe parlarne, perché hanno bloccato la curva Fiesole per due mesi per buttare giù, ecco, lo vediamo nelle immagini, la curva Ferrovia, scusami, per due mesi, per buttare giù un cartellone e poi dopo renderla inutilizzabile per tutte le partite. E noi avevamo due semifinali, vorrei ricordare, quella con l'Atalanta e quella col Bruges. Dopodiché, adesso leggiamo che dall'anno prossimo la curva Fiesole, dove si inizieranno i primi lavori, i tifosi della curva Fiesole si spostano. Allora perché non l'abbiamo tenuta in usa aperta anche per queste manifestazioni? Sinceramente, credo che si stia rincorrendo soprattutto la volontà di un sindaco che vuole per forza lo stadio dentro il Comune di Firenze. Lo si può fare, lo si può fare. Ci sono anche altre aree dove poterle fare, però assolutamente dobbiamo liberare finalmente quel... Allora, il progetto iniziale di tutto il quartiere poteva anche essere un'idea da poter prendere in considerazione, ma se tu hai visto il centro commerciale è sparito, i parcheggi sotterranei sono spariti, tutta l'area pedonale perché doveva così, doveva essere, doveva diventare l'area sportiva di Firenze, il cuore di Firenze per quanto riguarda lo sport, è sparito tutto e tutto l'investimento dove va? Sullo stadio, che perderà con questo restyling il suo vero valore, perché intanto la copertura gli toglie già una sua identità, perché sai bene che visto dall'altro ha una sua denominazione, cioè c'è proprio una sua fotografia, coprendolo già quello lo perdi. Poi dopo tutti questi pali che vengono messi intorno per sorreggere la copertura toglie che i tre cinesi all'anno che andavano a vedere il bene culturale non ci saranno neanche più. Io li voglio conoscere, li voglio conoscere questi tre cinesi che partono da Pechino per venire le scale elicoidali. Ma insomma, a me sono concesso che ci siano. Stadio, ma non solo, perché se parliamo di grandi opere, a Firenze un'altra delle opere dove in questo caso sì, le ruspe ci sono e l'alta velocità, il sottottraversamento, quell'opera lì ti torna? Vi piace? Ormai abbiamo fatto. È sempre criticata però, soprattutto per la curva. Sì, proprio per l'idea e per la pericolosità, però abbiamo a un certo momento abbiamo capito che non si poteva fare diversamente. Era già stato speso più di un miliardo per la stazione Foster e per cui ritornare indietro. Però abbiamo sempre chiesto che questo sottottraversamento fosse fatto in sicurezza e che fossero dati tempi certi, controlli. Tant'è, e parlo prima del sottottraversamento e poi della stazione Forte, tant'è che il sottottraversamento adesso la fresa, Iris, è ferma da un mese e mezzo. Perché? Perché le terre di scavo che non sono state monitorizzate a suo tempo adesso sono ferme sui treni perché l'invaso di Cavriglia non li può assorbire perché sono pieni di argilla. Praticamente la terra è fatta di argilla. L'argilla contiene acqua, l'acqua deve essere essiccata, ci sono le piogge, ci dicono. Piove sempre, ma non si sapeva, in Firenze non piove mai, ma al di là di quello c'è un problema proprio di poter mettere lì e per cui è un mese e mezzo che la fresa è ferma e questi sono tutti i costi che aumentano ancora di più per quanto riguarda il sottottraversamento. Poi c'era la doppia curva perché lì il treno dovrà passare massimo a 50 km all'ora, non può andare a una velocità per cui 7 km e mezzo si andrà a guadagnare in quella tratta sia e no 7-8 minuti. E questo è costato ad oggi 2 miliardi. Io credo che alla fine dell'opera si avvicinerà ai 2,5-3 miliardi tutta l'opera completa. La stazione Foster adesso non si sa più che cosa farci. Qui vediamo delle immagini bellissime. Avveniristiche? Avveniristiche, assolutamente sì. Però il problema è che RFI che cosa ha deciso? Di non prendere la gestione della stazione Foster perché ha già due stazioni in carico che è Porta Sosa a Torino e la stazione Tiburtina a Roma e sono sempre in perdita perché hanno un costo talmente elevato con quello che invece producono che è sempre in passivo. Per cui hanno detto noi della stazione Foster non ne vogliamo sapere e adesso è passato in carico all'amministrazione comunale e regionale per sapere che cosa farci. La prima idea è quella di portarci gli autobus di tutta la Toscana. Ora, si sta facendo una lotta per lo scudo verde. Firenze ha portato avanti lo scudo verde e noi vogliamo portare mille autobus dentro la stazione al centro di Firenze? Ora, mi sembra che sia un controsenso. Mi sembra che creare una struttura avveniristica come quella per portarci degli autobus dentro io credo che sia veramente un fallimento totale. e c'è un problema anche di viabilità per arrivarci oltretutto. A proposito di viabilità perché è l'altra grande sfida insomma l'altro grosso problema se parliamo con i fiorentini alla fine quello che il problema che sottolineano maggiormente è quello della sicurezza l'abbiamo parlato poco fa anche con il capitano ultimo è quello della viabilità il traffico e quindi le code che ogni giorno si trovano a sopportare anche per i cantieri della tramvia. Come si risolvono questi due problemi? I cantieri ormai devono andare cioè serviva una programmazione diversa perché un conto è fare un intervento su una linea e un conto è voler mettere insieme tre o quattro linee contemporaneamente è logico che si congestiona ma l'idea di dover passare e di dover far passare tre linee contemporaneamente no forse sono quattro linee contemporaneamente da Piazza della Libertà che è il cuore di Firenze perché da Piazza della Libertà è l'unica strada l'unico accesso che hai da Firenze Sud a Firenze Nord per forza devi passare da Piazza della Libertà se noi si considera che in Viale Spartaco Lavagnini c'è una linea Viale Don Minzoni linea Viale Gramsci linea Via La Marmora una linea e Via Cavour un'altra linea per cui sarà un concentramento sembra di essere Santa Maria Novella secondo me non è più Piazza della Libertà perché lì arriveranno tutti i treni contemporaneamente e le macchine dove passano io sinceramente è una non so come come sia stata studiata ma sinceramente ho delle difficoltà a comprenderla chiudiamo il la filastrocca delle grandi opere con l'aeroporto e qui siamo veramente al al ritornello perché insomma dicevamo nel 2009 quando ti sei candidato sindaco c'era questo si parlava ancora l'aeroporto ma la storia dell'aeroporto viene dagli anni 60 un'idea un progetto sembra esserci questa volta è la volta buona allora nel 2003 era stato presentato questo masterplan famoso che aveva ottenuto di mettere in sicurezza l'aeroporto noi siamo dell'idea io personalmente sono dell'idea di dover dare delle risposte non dare delle speranze ma dare delle risposte ai cittadini di Quaracchi e di Brozzi perché dico questo perché quello che dobbiamo fare è togliergli l'aerida sopra la testa metterli in sicurezza togliergli l'inquinamento acustico e tutto il resto io non lo so personalmente non lo so perché non sono un tecnico non sono un ingegnere saranno gli ingegneri che dovranno decidere dove fare la pista come fare la pista e quant'altro se c'è da spianare Montemorello perché si può fare in cima a Montemorello saranno i tecnici che lo devono decidere non dobbiamo essere noi il problema è un altro è l'area agricola della piana quello è il problema grosso perché aeroporto nuovo il nuovo piano perché è passato sotto traccia ma c'è il nuovo piano regolatore di Firenze che ha comportato degli interventi in quell'area e a cosa mi riferisco alla nuova tramvia che dovrà collegare l'aeroporto a Sesto c'è la scuola dei marescialli c'è il nuovo il polo scientifico che dovrà essere ampliato e più che ci sono 200.000 metri quadri del contenzioso fra Unipol e il comune di Firenze dove è chiara fondata la vera area che Unipol ha vinto ha vinto la causa dovevano essere 350.000 e invece hanno trovato diciamo un accordo a 200.000 ma che dovranno essere realizzati sempre in quell'area io credo che se la regione non fa una pianificazione di quell'area e decide che cosa ci dobbiamo fare e dopo rivolgersi a Toscana Aeroporti e dirgli che tipo di aeroporto vuole noi non arriveremo mai da nessuna parte tutti dicono spostiamo la pista di qui spostiamo la pista di là noi dobbiamo dare una risposta a queste persone che da 20 anni aspettano che gli si tolga gli aerei allora mettiamolo in sicurezza prima di tutto anche chiedendo a Toscana Aeroporti di fare un intervento per quelle abitazioni alle quali avrebbe dovuto dare una risposta 20 anni fa e poi dopo studiare in regione che cosa fare di quell'area perché non è un'area banale insomma l'abbiamo visto a novembre che tipo di area è quello oltretutto ci sono anche problemi c'è il problema di spostare il lago ci sono tutte sotto è una zona che purtroppo purtroppo c'è l'alluvione e fra le altre cose qui ti do un'altra un'altra anticipazione l'intervento che vorranno fare che è già stato stabilito dal PNRR dalla regione di 15 milioni sull'Arno mettendo delle paratie mettendo tutte queste cose cosa comporterà comporterà un problema proprio per le comunità che sono a valle dove avrebbero dovuto fare le casse di laminazione qui in questa zona proprio che non sono mai state fatte ce ne è stata fatta soltanto una invece che quattro ecco sono stati spesi dei soldi e adesso il problema dell'Arno si rivolgerà poi dopo si riverserà dopo su quella comunità lì questi grandi i tanti temi legati alle grandi opere al centro anche di questa campagna elettorale tu Giovanni vedremo quale sarà l'esito della tornata di domenica ma insomma un po' anticipato in base alle varie indicazioni sembra esserci un po' l'area di ballottaggio la possibilità che nessuno riesca ad arrivare al 50% al primo turno in quel caso ovviamente si sta facendo il gioco del sé se ci fosse Eike Schmidt e Sara Funaro al ballottaggio con Stefania Saccardi I Riaviva e Matteo Renzi da fare un po' da ago nella bilancia hai un po' ha fatto suonare un po' di sirene insomma hai provato a fare un po' di calciomercato no perché mi è stata fatta una domanda perché logicamente sia il centro-sinistra che il centro-destra se non arrivano a quei numeri si devono rivolgere agli altri otto candidati sindaci e ai suoi elettori mi è stato detto chi è il primo è logico il primo potrebbe essere Saccardi e di conseguenza Renzi perché perché quello che si legge sui giornali quello che si legge negli interventi di Matteo Renzi nei confronti dell'ex sindaco Nardella ma anche dell'attuale candidata Funaro mi sembra che siano fulbini e saette e allora ho detto potrebbe essere no un'interlocuzione proprio con questo partito con questa per poter arrivare finalmente a guidare la città di Firenze ecco questo è stato però anche Cecilia del Re anche lei mi sembra che sia in tanti in contrasto con per cui sarà prima di tutto dobbiamo convincere i non elettori quelli che non vanno più che non hanno voglia di andarci e perché credo che in questa tornata sia fondamentale e necessario dare il proprio contributo e poi gli indecisi gli indecisi di cercare di dare finalmente come dicevo all'inizio di trasmissione di dare al centro-destra un'opportunità di guidare Firenze per i prossimi cinque anni in trenta secondi da commentatore però sportivo quello che fai tutta l'anno a zona vista ce lo dici come vedi il momento della Fiorentina domani c'è la conferenza stampa della società o di quel che ne resta che ti aspetti che si è chiuso un capitolo che è quello della partenza di italiano se ne apre un altro e domani ci aspettiamo tutti ci aspettiamo tutti che ci sia una strada sulla quale poter poi dopo camminare tutti insieme perché è giusto che anche il tifoso sia messo al corrente di quello che è l'idea di società che si vorrà portare avanti commisso a volte si legge che possa vendere questo non lo sappiamo non possiamo essere dei maghi con una sfera di cristallo la speranza è che conti Firenze ma soprattutto che conti la Fiorentina e quello lo speriamo tutti stasera alle 21 zona mista Giovanni impegnato nella campagna elettorale non ci sarà ma ci sarà Mario Trenani Luca Calamai Pino Vitale e tanti altri primo piano torna invece lunedì prossimo a partire dalle 14.30 minuto per minuto tutti i numeri stiamo insieme tutto il pomeriggio fino alle 17.30 e vi racconteremo passo dopo passo l'andamento dello spoglio elettorale grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti